Senta scusi, ha chiamato per me il signor Tonino? No signora Grazie, io mi chiamo Rossana Siziana, Rossana, Siziana Comunque no No, per ora no, grazie Scusi Ma tu l'amore che tua moglie ce lo fai? Spermi sempre parlare di mia moglie Sapere, 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 sapere Le mani liate nel mio sciataccio Cosa? Risponde, risponde C'è di quei primi tempi, non lo so, quando vi siete conosciuti all'inizio Tu l'amavi? Sì, all'inizio, sì Con le vienze bisogna dire, non lo so Oh, che è? Che è successo? Che hai visto? A chi somigliò? Tra un'ora c'è il funerale del direttore di banca. Chi?